Hermès porta questa mostra, Hermès dietro le quinte, a Roma per la prima volta. Siamo orgogliosissimi di portarla qui. Roma è una città dove l'artigianato è sicuramente un elemento molto importante e che si sente fortemente e trovavamo importante mostrare tutto il mondo artigianale che c'è dietro a quest'universo Hermès. È un'occasione eccezionale, unica, perché sono tanti savoir faire e tanti mestieri che sono dislocati su tutta la Francia. Per cui poterli avere insieme in un'unica location e poter parlare con questi artigiani che ti raccontano come fanno il prodotto, come lavorano, da dove arriva la materia prima e quanti anni, quanto tempo ci vuole per lavorarlo, pensiamo e sappiamo che è una cosa che affascina il pubblico. Le sfide per Hermès in Italia sono tante. Noi siamo un mercato molto importante, siamo un mercato storico perché esistiamo da circa il 1955, Hermès è presente sul territorio italiano ed era presente in modo capillare in tantissime città. Questo fa che la notorietà è molto forte e si passa la parola nelle famiglie. Nelle famiglie c'è proprio questa tradizione di parlare del prodotto Hermès da padre a figlio e continua anche oggi. La sfida uno è che questo continui perché comunque sappiamo il digitale, siamo in un mondo di comunicazione completamente diverso. Dunque per noi è fondamentale coltivare questo chi siamo, far conoscere, far sapere Hermès, chi siamo per i giovani. Questa è la grandissima sfida. Io dico sempre che abbiamo la grandissima fortuna di lavorare nel bello e questo è un privilegio infinito. L'oggetto trasmette delle emozioni, è la composizione della lavorazione della materia prima e del suo utilizzo che renderà questo oggetto unico. I nostri clienti renderanno gli oggetti unici, ognuno è diverso da come lo porta, da come lo usa, da come lo interpreta e si crea proprio una relazione. Dunque per me Hermès è un'azienda meravigliosa, un'azienda composta da uomini, fondamentalmente uomini, che amano il bello e il loro lavoro.